amiche delle bigottine vi ricordate il pink pack era il pacchettino che abbiamo messo come omaggio a tutte le amiche che ci hanno fatto a tutte indifferentemente quelle che hanno fatto l'ordine una certa giornata per ringraziarvi per averci aiutato a raggiungere i 10.000 follower su instagram grande obiettivo che avevamo l'abbiamo raggiunto grazie a voi questo è il ringraziamento molti di voi ci hanno chiesto ma cosa ci facciamo con questi pezzetti quindi ho detto se ho il tempo cerco di preparare un piccolo tutorial per realizzare qualcosa con questi pezzetti ho trovato il tempo comunque di farlo perché secondo me era giusto e quindi è nata questa bambolina la chiamo pink pack perché non gli ho dato un nome magari video lo date voi il nome faccio un piccolo concorso mi dite la chiamiamo e quindi vi lascio poi tutte le indicazioni per fare questo sondaggio insieme a voi allora di cosa si tratta si tratta di un progetto semplicissimo perché non ci sono cuciture a parte la composizione della testina che come sempre sapete che ve la faccio vedere allora ve la giro risulta è semplicissima vi dico questo perché così la potete fare anche insieme alle vostre bimbe bambini vi divertite insieme lo posso dire alle nonne alle mamme coinvolgetevi coinvolgete in questa cosa perché secondo me si divertono anche loro ovviamente nel momento in cui si adopera la colla caldo e sono pochi passaggi però ci sono la presenza dell'adulto assolutamente deve essere fatta non abbandonato in questo se vedete veramente semplice però è carino è un'idea sfiziosa adesso partiamo insieme aprirò insieme a voi il pink pack e incomincerò a farvi vedere i materiali che useremo praticamente tutti adottorgo da una parte avevamo dentro all'interno un pezzo di tulle un pezzo di vi faccio vedere da pacche meglio di stoffa prissettata e filo di ferro fettuccina limited edition rosa e della della qual per fare la testolina e la lana per fare la testolina come sempre cerchiamo di partire dalla testolina perché così ci togliamo il pensiero più grosso testina da 40 chi ha la box che delle acconciature può utilizzare anche le testoline della box delle acconciature allora spillino al centro della pallina sempre alla parte opposta di dove c'è questo segno qua lo spingo fino in fondo premio il mio cerchiolino di toile per la dimensione del cerchiolino potete andare a vedere ci sono diversi video tutorial dove ho messo la testina da 40 quindi potete scaricarla da lì filza tutto intorno mi raccomando filo forte perché dobbiamo andarla a tirare quindi quando la tiro ho bisogno di che sia un filo che non mi rimane in mano ok pian pianino potete farlo con una filza o ed è questa la filza un punto sopraggitto quindi faccio così dentro fuori dentro fuori in questo modo è indifferente si arriccia in ogni caso intorno alla testolina e quindi questa volta vi faccio vedere proprio tutto da tutto perché questo video tutorial lo potete fare anche voi principiantissime che avete paura di affrontare la macchina da cucire paura di affrontare non essere capaci sarete sicuramente capaci quindi prendo punto il nasino al centro del mio cerchiolino con le dita tengo stretto il nasino e vado a vado a finì che mi si sfila oggi va così così tiro ben forte e questa arricciatura deve essere opposta al nasino quindi chiudiamo così tengo stretto con il dito il filo e vado a finire la mia cucitura basta qualche puntino tanto dopo ci sarà la cosa che fissa i capelli quindi non è che scarpa niente ok taglio il filo e vado a preparare il trucco prendo il pennellone metto il dito vicino al nasino proprio così e vado a spennellare con la terra tutto il contorno se vedete io faccio una rotazione vado sì vicino al nasino ma tengo coperta la punta estrema un bel giro tra 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 parto sempre da dietro così sia un eccesso di polvere rimane dietro poi prendo la spugnetta questo qua e vado a fare le guancette se vedete la trama una specie di dritto filo lo chiamo io tenetelo sempre perpendicolare di fronte a voi quindi ci appoggiamo con la spugnetta al nasino e facciamo una prima macchia così giro dove più liscia e vado a sfregare sfregando dovete fare un po in tutti i versi così si spande per bene facciamo la stessa cosa esattamente opposto questo non dovete farlo più su più in giù semplicemente opposto vicino al nasino faccio così e vado a sfumare vedete anche se era una diciamo una macchia irregolare sfumando in tutti i versi si sfuma tutto e diventa tutta regolare una volta truccata mettiamo gli occhietti in questo caso metteremo gli occhietti aperti perciò prendo la mascherina della picofaccina l'appoggio sul nasino la metto bella pari quando dico pari è questo lato che diventa va proprio sulla parte centrale come se girasse la circonferenza nella parte centrale della sfera prendo il primo spillino dove c'è scritto occhio ci metto il primo spillino dove c'è scritto occhio ci metto il secondo spillino sfilo perché il pezzettino di mascherina è tagliato lì e vado a spingere giù poi mi appoggio al tavolo con la parte morbida del pollice spingo bene lascio l'impronta idem da questa parte l'importante che ci vengano le due impronte allora prende un po di espressività poi prendiamo la penna gel la micro punta e facciamo le ciglia me lo metto sempre in verticale così lavoro primo un occhio poi l'altro mi appoggio nell'angolino qua e faccio 1 2 3 se vedete parto dallo stesso punto faccio la stessa cosa qua 1 2 3 sopracciglia non è altro che una parentesi che contorna l'occhietto quindi faccio parentesi e parentesi se vedete io sto appoggiata con le mani mi raccomando importantissimo per la bocca in questo caso visto che vogliamo fare un video proprio per le principianti e per i bambini cosa facciamo prendiamo lo scovolino da trucco cercate di focalizzare una distanza che più o meno sia come questa e andate a fare semplicemente così niente di più allora poi cosa facciamo metto anche questo prendo il bulino che ha la tonda tonda non questa grossa ma quello un pochino più piccolina questa anche pulito e con l'acrilico bianco vado a fare i punti luce che sono importanti perché danno un pochino più di espressività alla faccina allora per i pui le pupille diciamo del biocchietti cosa faccio tengo appoggiata sempre al tavolo la faccina e mettendo il bulino parallelo al tavolo a 45 gradi faccio il primo pallino sto parallela così vedete striscio proprio la mano sul tavolo e faccio il secondo pallino nello stesso verso perché se no mi scavico poi prendo un altro po di vernice poca a poca e ne faccio uno centrale e uno centrale e questi sono gli occhietti poi la rimetto in verticale la testolina e tra l'occhio e la bocca circa qua vado a fare appoggio la mia goccia e da partendo dal centro proteando faccio la guancetta partite sempre dal centro perché la prima anche se faceste un cerchio viverebbe lo stesso per la seconda sarebbe più difficoltosa quindi anche qua il nasino mi dà la specularità quindi appoggio e allargo siccome ho quella lì davanti vedo quanto mi devo allargare e se parto dal centro capisco dove mi devo fermare e la nostra testolina è fatta allora gomitolino prendo il gomitolino e vado a prendere ecco lo buttate a terra perché molto più facile da far sulla matassina 65 cm è la misura che vi serve e fate 22 giri quindi 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20 21 e 22 avete capito che sono anche contare tac pezzettino di lana lunga come tutto il nostro la nostra matassina e la vado a legare al centro così quindi nodino bello tirato mi raccomando non fate nodini morbidi per la frangetta 3 dita 10 giri 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 io taglio sopra e taglio sotto e mi appoggio al tavolo poi preparo un altro filo che serve per la legato in alto e altri due fili 1 2 e 3 questi sono i fili che in teoria ci servono allora procediamo con la conciatura prendo la mia testina che nel frattempo si è asciugata e metto la frangetta la rivolgete sempre verso l'esterno che state molto vicino agli dovete attaccarla da occhio a occhio quindi la colla andrà da qua a qua sporcatina di colla non esagerate perché sono fondete la testa appoggiate i vostri capelli senza schiacciare col dito indice della mano sinistra tenete stretto e andiamo metterli anche qui dietro questi sono alcuni passi molto semplici ma se fate queste posizioni di linee appoggiate la testolina lasciando la cucitura verso l'esterno e tagliate l'eccesso del stando proprio vicino alla cucitura l'eccesso della della frangia in davanti non tagliate la latrina nella frangia sempre in questo punto qua a questo punto della conciatura perché perché questo puntino qua e questo puntino qua sono importanti cucina di colla qua prendo la mia faccina dico ciao ciao la giro verso il basso così vedo questo punto non è mezzo qua l'attaccatura ma appena lì sopra così col dito mignolo tengo stretto e vado a fare il contorno del viso che va dal punto estremo della frangetta ed è per quello che la dobbiamo tagliare a questo punto e stondando faccio il contorno del viso tengo la testina rivolta verso il basso e appoggio la lana verso il basso così non fatela in questo modo perché sennò vivi in avanti è così verso il basso poi metto il pollice sotto la frangia e vado a fare da questo angolo all'angolino della frangetta sempre stondando e vado ad appoggiarmi così se vedete il contorno del viso è così non è tirato tutto indietro quindi se avete paura di sbagliare con la colla voi appoggiate tenendo la testa in giù appoggiate la lana e con o la penna friction che tanto col calore della colla scompare o con anche la penna gel fate dei puntini che vi fanno il contorno dove dovete arrivare con la colla adesso cosa facciamo qui dietro non mettiamo colla ma semplicemente lo allarghiamo un pochino mi appoggio al tavolo con la testa rivolta verso destra e i capelli a sinistra i mancini ovvio faranno esattamente il contrario allora prendo uno dei fili faccio passare il pollice la testa deve essere parallela al tavolo non deve essere né così né così è parallela al tavolo faccio scivolare il pollice sotto e con la mano prendo tutta la conciatura non faccio questa cosa qua ma questa giro la mano con il dito medio prendo catturo il filo tengo stretta le dita circa la metà tengo strette bene le dita così non si muove sposto il pollice da sopra faccio due giri così mi appoggio al tavolo se vedete quando li tirate bene non avete bisogno di tenere stretto tutto quanto facciamo il nudo così uno e due così sono sicura che non perdo niente questa è la base un po di tutte le conci di una buona parte delle conciature poi ne abbiamo viste che ce ne sono anche partendo dall'alto ma questa è intanto adesso cosa facciamo la mettiamo a testa in giù con i capelli verso rivolti verso l'alto e prendiamo l'arone quello da passasfago e schiaccio bene tra le dita faccio passare e faccio passare vicino dove c'è il nodo qua dal nodo faccio passare un filo così tiro lascio circa metà poi prendo tutto questo lo rivolgo verso il basso tutta la coda e faccio un bel nodo non deve essere tiratissima verso il basso un po morbida e se non lo è andate poi un po da dire voi il nodo però deve essere ben tirato è il nodo così e tagliamo l'eccesso a questo punto cosa dobbiamo fare andiamo ad allargare questa parte qua così ok vedete sul davanti vi deve risultare questa cosa così mi giro da questo punto in poi potete farlo fare anche ai bambini perché non usiamo colla proprio non viene più usata la colla qui prendiamo un altro filo mettiamo il nostro agone infiliamo il nostro agone e stando circa metà piuttosto un pochino più alti della metà non dovete prendere anche la pallina ma semplicemente se prendete dentro la tua non è un problema passate se vedete l'ho preso su tutta questa la larghezza larghezza passate il filo da parte a parte sempre circa a metà poi cosa facciamo tiriamo su di nuovo la nostra codina così ci vado a fare un altro modo in questo modo in questo caso si trattandosi del del ciuffetto finale posso fare dei chiocchettini così non vado a tagliare il filo e lo recupero poi quando sono qua io lo vado a sistemare un po in questo non è necessario fare tante aggiunte se volete aggiungere fare un po di extension si fanno così semplicemente su tre dita fate qualche giro in questo caso 4 dita scusate per una testa da 40 fate qualche giro casaccio anche 10 giri taglio non tagliate le due parti come si fa per la pancia facciamo il vino così chiudiamo per bene e andiamo a tirare qualche filettino così deve essere sempre l'extension deve essere sempre molto irregolare non fate caso se più corto qualche lungo lì fregate bene proprio non è un problema cosa facciamo la possiamo andare a mettere qua perché ci sembra che ci sia un buco ok quindi questa è la faccina in questo caso io mi sono preparata tipo le foglioline della fustella della rosa e dei cerchiolini facciamo il fiorellino semplice semplice quello che allargo di qua allargo di là arrotolo la parte centrale così metto la colla su tutta la lunghezza di questo lato poi un pochino così un pochino e vado a tagliare la parte centrale circa un centimetro ci vengono questi due tre che con un po di colla voi potete metterci fiocchetti dovete decidere voi cosa vi piace di più mettiamo così qua e anche l'altro in questo caso potete mettere due fiorellini in testa un fiorellino in testa e due in una bambolina la propria discrezione vostra vi dovete divertire poi ad accessoriarla come vi piace di più ok quindi uno lo teniamo per il vestitino me lo metto qua e l'altro lo mettiamo tra i capelli quindi un boccettino di colla e vado a infilarci il mio fiorellino così e la testolina l'abbiamo fatta adesso procediamo per il corpicino che è anche il vestito della bambolina utilizziamo il pezzo intero del che avete dentro al pacchettino di tulle e il pezzo intero di pizzo plissettato che avete dentro il pacchettino questo plissettato è 50 per 50 questo invece è 70 per 50 circa allora io metto prima sul tavolo il mio pezzo di tulle aprendolo così adesso tulle essendo aperto è un po trasparente ma fidatevi che è tutto aperto lo sviluppo e ci metto sopra il mio pezzettino di pizzo plissettato ok se volete potete tagliare la cimosa ma voglio dire ci può anche stare tranquillamente senza problemi allora quando lo appoggiate essendo il plissettato una cosa che è un po elastica e morbida vi può rimanere una strisciolina qui di pizzo adesso qua si vede di tulle si vede poco ma c'è saranno quelle tre dita la tagliate tutta che vi servirà per fare la decorazione ve lo faccio vedere della della testolina praticamente per la testolina adesso ripongo un attimo la mia bambolina che non ha ancora un nome mai cominciate a pensarci e vi taglio via la strisciolina del tulle che è quasi trasparente si fa fatica ma si vede si vede tranquille così taglio tutta la mia strisciolina che come vi ho detto utilizzeremo per la decorazione dell'acconciatura la metto da una parte poi siccome questa è 50 per 50 bisettate l'altro e 70 il pezzo che vi avanza lo tagliate via perché perché ci servirà per il colletto questo quindi taglio e metto da parte anche questo qui così sempre in un angolo poi cosa facciamo prendiamo il nostro nostro quadrato diciamo quando facciamo tali i tagli non sono precisissimi 50 per 50 esattamente che dipende sempre anche da come sono state stirate a volte le stoffe quindi quando vi dico ci guarda per cinquata approssimativamente può essere un centimetro e meno un centimetro in più ma questo non cambia il risultato poi cosa facciamo adesso mettiamo da parte anche questo e incominciamo a preparare il cuoricino fatto con la fettuccina rosa e il filo di ferro bianco prendiamo il filo di ferro bianco e cosa facciamo lo apriamo e misuriamo un pezzo adesso qua cerco di aprirlo tutto apriamo un pezzo e lo misuriamo per il cuore grande lungo 38 cm miglioratrizzo un pochino perché così sta meglio 38 cm e per il cuoricino piccolo 20 cm allora primo 38 è qua prendo le pinzettine quelle piccole e taglio poi ne taglio un altro beletto di 20 cm per il cuoricino più piccolino così e fino a qua 20 cm ripongo il resto prendo la pinza e giro sempre la parte che andremo a infilare dentro alla nostra fettuccia sia di uno che dell'altro così non si fa fatica a infilarla questa perché è abbastanza larghina se avete visto è un pochino più larga rispetto alle altre volte alle altre fettuccine quindi cominciamo a prendere la lunghezza della fettuccina da avvicciare dentro il cuoricino non ve la sto a dire nel senso che la infiliamo dentro man mano capiremo quanta ce ne va non c'è una misura esatta anche qui metto tra le dita la fettuccina schiaccio un pochino e dall'alto verso il basso va ad infilare il mio la mia fettuccia allora cosa faccio qui adesso la fermo prima di tutto in questo punto qua un boccino di colla poi cosa facciamo continuiamo a infilare nella fettuccia dobbiamo avere questo risultato di arricciatura non deve essere strettissima non deve essere neanche troppo larga ok quando vediamo che più o meno ci siamo con la nostra arricciatura possiamo tagliare il pezzettino e lo andiamo a fissare sempre con una vicina di colla lo giro su se stesso e con le dita così allora per fare il cuoricino io cosa faccio prendo sempre la pinza lasciate la distribuzione più o meno se vedete facendo così vedo più o meno qual è la parte centrale che è questa con la pinza lo piego bene ci deve venire la puntina poi riapro in questo modo così ci viene proprio la piegatura con la punta dopodiché vado a ripiegare come se fosse allora se avete bisogno di fare una piegatura fatta bene potete usare anche tipo il barattolino del dell'acrilico oppure una spagnoletta cose del genere viene un tondo quasi preciso poi cosa faccio lo incollo incollo le due puntine così abbiamo il nostro cuoricino questo tipo di cuoricino potete usare anche come decorazione per altre cose cioè un cuoricino una cucardina lo potete arricchire con dei come si dice dei fiorellini comunque questa è una base ora facciamo l'altro cuoricino procediamo nello stesso modo così sempre tra le dita schiaccio dall'alto verso il basso ok così fisso la parte qua con un boccettino di colla mi raccomando state attente sempre a non muzionarvi questa operazione del fissaggio mi raccomando se fate questo progetto insieme ai vostri bimbi fate lui penso non ci sia neanche bisogno di dirlo però si sa mai non fidatevi troppo perché la colla scotta ok così secondo me è già sufficiente boccino di colla anche qua vedete è proprio fino adesso nulla di difficile e non ancora toccato l'ago se non per la testolina insomma lì si sa che una cosa che ok anche qua si prende la metà del nostro pezzettino di film di ferro e la vado a piegare per bene la allargo e aspetto a metterla dentro all'altro cuoricino perché prima devo fare un'operazione e inserirgli il nostro vestitino così cerchiamo di farlo più tondo possibile dopo lo chiuderò quando l'avrò infilato in questo qua ma successivamente questo lo metto qua allora adesso dobbiamo mettere il vestitino dentro al cuore come facciamo mi serve comunque un pezzo di questo di questa tettuccia quanto mi servirà facciamo un a occhio dico così e poi adesso ve la misura 60 70 centimetri perché così dopo rimane anche un sacco dietro perché faccio abbondante la facciamo lunga da qua fino qua sono 80 centimetri ho sbagliato 10 allora prendiamo sposto il tavolo prendiamo il nostro pezzettino di che abbiamo preparato prima con il tulle e il plissettato così e cosa faccio vado a prendere una parte di questo con le mani e lo faccio scivolare come se facesse un anello con le dita la faccio scivolare qui così ok poi cosa facciamo prendiamo il nostro cuoricino me la giro dalla parte di qua perché così il rimane questa parte di pizzo plissettato sul di dietro ma a vista e cosa facciamo l'andiamo a mettere sopra a questo cuoricino infilo dentro questa parte qua cerco un po di equilibrio è cioè vedete rimane un pochino più lungo di dietro e un pochino più corto davanti e poi cosa facciamo andiamo a chiudere con la nostra fettuccina questa parte qui dopo andremo un po a sistemare questa ricciatura adesso con le mani mezzi incollate così cerchiamo comunque di dargli un senso e dopo lo sistemiamo attraverso il nostro cuoricino gli andiamo a chiudere come se gli facessimo la cintura in vita quindi un po verso l'alto giro due volte cerco di tenere un po la parte centrale così ho un fiocco regolare così due giri e poi sulla parte dietro faccio un nodo e un fiocco fino adesso niente di difficile ok ok adesso cosa facciamo andiamo a prima di tutto ad aprire un po questa specie di ventaglietto non so come chiamarlo che è poi quello dove appoggeremo anche il colletto della bambolina quindi aprendolo un po fa da sembra una manica il cuore sembrano delle braccia e questo sembra una manica quindi facciamo questa cosina qua poi è importantissimo per dargli questo rendere un po vaporoso allargare visto che adesso abbiamo chiuso qua e possiamo farlo allargare il tulle con le stoffe se voi avete una ricciatura e volete rendere due stoffe più vaporose andate ad allargarle sempre questa cosa se c'è una filza ve le renderà molto più vaporose ok quindi anche la parte di dietro la vado ad allargare così se vedete sembra che la sto tutto rovinando mentre invece alla fine è quello che salterà fuori che è molto carino vedete che si è proprio rigonfiato poi va sempre un po sistemato il vestitino li sta a voi cercare adesso questa opera quindi io vi do queste indicazioni per farlo semplicemente con questi materiali poi se volete potete aggiungere fiori pizzi merletti dove vi pare a voi ma in ogni caso così è la parte più semplice da fare allora adesso cosa facciamo possiamo andare aggiungere l'altro cuoricino visto che fra poco san valentino non ci abbiamo messo dei cuoricini quindi lo infilo dentro qua goccettina di colla appena appena una puntina e lo vado a chiudere quindi rimangono liberi fra di loro e l'abbiamo chiuso ora devo fare il collettino da mettere sopra prima di prima della testolina di attaccare la testolina il collo da mettere qui sopra intanto ve lo lascio tutto un po così così lo vedete bene spero che si veda bene prendiamo il tulle che avevamo tagliato in precedenza quel pezzo che cedeva dai città i 70 20 centimetri non state da misurare se 20 centimetri dato che vi avanti un pezzo questo è lo piegare in due così il doppio e andremo a fare una filza esattamente qui su questo petto qua circa metà calcolate quelle due dita circa che possono servire per fare il collettino allora siccome il tulle è un po fetente di su perché si muove in continuazione io cosa faccio prendo i miei spillini questi qua e lo vado a spillettare tutto così sta fermo e io posso fare la mia filza tranquillamente filo forte come sempre e vado a farci la filza avanti inbre tutto quanto i punti della filza tenete presente che essendo un materiale molto sottile il tulle potete farli anche non lunghissimi più li fate piccolini più si noterà la ricciatura e quando invece avete un materiale molto spesso molto grosso la filzettina fatela un pochino con un punto un po più lungo perché vi aiuterà nella ricciatura a farla stare un po meglio ok troviamo anche questo e abbiamo quindi anche questo lavorino qua è un modo per insegnare le vostre bimbe ma anche i maschietti perché anche i maschietti sono bravissime per queste cose a fare una filza che il punto base un po di tutto quanto molto semplice molto facile così cosa facciamo io quando chiudo i collettini anche quando li fatti di pizzo prendo gira e rigira glielo metto in mezzo e faccio il nodo questo cosa serve serve semplicemente a ad andare non a lasciare uno spazio che vi servirà per farci colare la colla per attaccare la testolina quindi ne era avanzato anche di più rispetto a quello della prova ma vi dico non è importante quanto ne avanza l'importante è che voi lo arricciate sto cercando di non perdere ecco il puntino così anche qua togliamo sempre i pezzi non lasciate dei fili volanti lo dico perché quando faccio i corsi vedo tutti questi fili volanti a fine vi confondo ne basta anche qui vale il discorso che abbiamo fatto per il vestitino apriamo sempre tutto il tulle più l'aprite e più si incastra e rimane vaporoso quindi apro bene ci lascio il giro e rigiro così vedo quello che sto facendo che sennò rischio di perdere e voilà il nostro collettino è pronto da essere incollato qui sopra ci mettiamo un goccino di colla e lo lasciamo fermo così se vi ricordate aveva un altro strisciolino per tulle che c'era avanzato cosa facciamo come era molto lungo io lo metto in doppio è molto sottile lungo lo metto in doppio faccio orecchia perché non mi ha messo in doppio bene così facciamo orecchia orecchia metto l'orecchia dalla parte di sinistra su quella di destra dove c'è il pino faccio passare l'orecchio e tiro e viene questo bellissimo fiocchettino cerco di tirare bene il nodo ma di accorciare anche le orecchie così viene proporzionato per poterlo mettere sulla testina lo apro bene taglio via quello che è in eccesso che non mi serve e lo vado a posizionare sempre sulla mia testolina quindi colla me lo metto qui potete metterlo anche sul fianco dove vi piace di più è sempre con le gambe rivolte verso l'alto e con la forbice mi aiuto a posizionarlo e a schiacciare quindi così la testolina è completa del tutto adesso lo dobbiamo fare andiamo a mettere la testolina alla bambola che ha ad aggiungere l'altro fiorellino allora con un pezzettino di fettuccina rosa faccio un altro fiocco eh mamma mia oggi i fiocchi non mi vengono no eccolo pian pianino ci venga tutto un fiocco un pochino più piccino rispetto a quello che abbiamo fatto dietro qui una volta fatto questo io cosa faccio lo metto qui sulla cintura dove l'ho legato e ci vado a mettere il mio fiorellino così questo pollicino lo lascio prendere lì e adesso metto abbondante colla e attacco la testolina facciamo così mi raccomando quando attaccate la testolina la cosa importante è metterla sdraiata da qualche parte lasciarla ferma immobile sempre quando mettete la testolina inclinatela un pochino lasciarla immobile per un po' di tempo che possono essere dai 10-15 minuti dipende da quanta colla state usando e dalla dimensione della testa l'importante è che diventi fredda la colla a caldo perché se provate a muoverla in continuazione non si attaccherà mai quindi fatta questa operazione la prendete l'appoggiate a nanna così e andate a fare un video amiche delle pigottine come vedete progetto semplice facile la portata di tutti quindi anche chi si approccia per le prime volte lo può affrontare benissimo fate le vostre prove e poi pubblicate tante foto nel gruppo che le vogliamo vedere altra cosa dobbiamo trovare un nome quindi scriveteci nei commenti del video quello che proponete voi di nome poi noi ne sceglieremo uno e magari qualche sorpresa per chi ci ha indovinato il nome più bello amiche delle pigottine come vedete è stato un progetto no attenta va bene